Ciao a tutti gli amici di Real Team TV, io sono Andrea Vena, un giovane cantautore bernaldese. Bernalda è un piccolissimo paese della provincia di Matera che forse in pochi conosceranno, in Basilicata, una zona che sicuramente è ricca di tantissime bellezze storiche, balneari ovviamente, e che mi ha dato i Natali. Io sono, come ho già detto, un giovane cantautore, ho 18 anni, ho scritto due brani che sono usciti, uno l'anno scorso e uno quest'anno, e ho coltivato la mia passione per la musica sin da piccolo, grazie alla mia famiglia che mi ha trasmesso questa grande passione per chi è appunto amante della musica e delle bellissime canzoni dei grandi cantautori che sono state fondamentali poi per la mia crescita musicale. E queste ispirazioni credo che si ritrovino all'interno delle mie canzoni, in particolare le mie Converse, uscita l'anno scorso nel 2021, nel luglio del 2021, è una canzone che ho concepito in quarantena, una canzone che ho scritto qui nella mia cameretta, chitarra e voce, che poi è diventata quella che ascoltate con l'arraggiamento orchestrare bellissimo che ci è stato fatto sopra. Le mie Converse parla di due ragazzi, due ragazzi che sono innamorati, innamorati persi, e vorrebbero vedersi ma purtroppo non possono per le restrizioni di cui tutti quanti abbiamo parlato, di cui tutti quanti abbiamo sentito parlare. E le Converse sono proprio il simbolo della rinascita e della voglia di vedersi, di mettersi quelle dannate scarpe e uscire da casa per riabbracciarsi e per ritornare tutti quanti insieme. Mentre Film è un brano molto più fresco, molto più particolare anche nell'arrangiamento perché appunto è uscito nel 2022, 17 luglio del 2022, e parla di una tematica vicina a tutti quanti gli adolescenti, quella voglia pazza di buttare tutto all'aria certe volte, di cercare di uscire fuori da quel mondo che a volte ci può sembrare opprimente. E credo che ognuno di noi in questa età, all'età dei 18-17 anni, abbia avuto queste sensazioni. Quindi è un brano in cui molti ragazzi mi hanno detto si ritrovano e di questo sono molto molto contento. I brani hanno un'ispirazione musicale completamente diversa, lo sentirete nell'arrangiamento, nei testi, e io mi ispiro appunto ai grandi cantautori ma anche alla musica moderna. E niente, sono davvero contento di essere qui con voi e vi mando un forte abbraccio, un forte saluto e speriamo di vederci presto in giro e di riascoltare quindi i miei brani. Ciao a tutti e un buon proseguimento! Grazie a tutti e un buon proseguimento! Grazie a tutti!